Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Parliamo ovviamente di mercato. È uscito fuori il nome di Depay. Secondo Di Marzio, il giocatore può arrivare a prescindere al Milan, visto che è un giocatore che si adatta a più ruoli. A voi piacerebbe? Sono rientrati in molti a Milanello. Stiamo parlando di Colombo, Romero, Daniel Maldini e Pellegrino. Per quanto riguarda Luca Romero, sembra che in estate ripartirà verso un'altra squadra. Per lui verranno valutate sia offerte a titolo definitivo, sia prestito con diritto di riscatto. Molti club di Serie A, tra cui Monza, Roma e Atalanta, hanno messo gli occhi su Daniel Maldini. Marco Pellegrino invece probabilmente finirà in un club tra il River Plate e il club atletico indipendente che hanno chiesto informazioni sul prestito del giocatore. Colombo invece è in attesa di una nuova squadra interessata a lui. Ieri, durante una delle partite di Euro 2024, finalmente è arrivato il gol di uno dei nostri giocatori rossoneri. Si tratta di Luka Jovic che in Slovenia-Serbia ha pareggiato all'ultimo minuto della partita. Queste sono tutte le news di questa giornata, le più importanti. E io come al solito vi invito a seguirci su tutti quanti i nostri social targati AC Milan Inside.